come detto in live reaction è arrivato il calcione di Jimmy argomento sicuramente meno importante di Cody molto meno importante di Cody è arrivato il calcione di Jimmy il match vi dico la verità il match in sé non mi è piaciuto tutti stavamo aspettando questo momento qui il match è un aperitivo aspettando che succeda questo quindi il match in sé secondo me non è giudicabile perché era solo un modo per arrivare a questa cosa qui però il finale è da cinema e vi chiedo cosa ci possiamo aspettare venerdì a SmackDown in questa celebrazione dei mille giorni di Roman dopo quello che è accaduto a Night of Champions parto da te Emanuele allora mi rifiuto di parlare subito di rispondere immediatamente a questa domanda perché il main event è stato troppo bello e un paio di parole vorrei dirle scusate se ho detto main event signori WWE uno dei tre va bene per me il match in sé è stato l'attesa di questo momento qua quindi la sequenza di mosse almeno della della mezza della metà parte l'ho vista così passivamente mi guardavo intorno guardava a bordo ring cercavo altro quindi anche loro forse volutamente non si sono spinti tanto poi c'è stato il cataclisma con tutte quelle spier a casaccio l'arbitro che cazzo ade kevin owens mamma mia che spier che ha fatto bellissima da metà match come spesso accade nelle storie della bloodline on e match di roman e la tensione sale arrivati gli usos ragazzi e lì è stato dramma bellissimo i gemelli un'interpretazione micidiale a mio vedere bellissimi gli scambi di sguardi le reazioni le emozioni le emozioni la rabbia di jimmy ma anche l'indecisione cioè guardate la postura di jimmy qua no mentre gli urla in faccia che cosa hai fatto che cosa hai fatto si vedeva dall'altra inquadratura quando vedi anche il giro che urla j si vede che che un binomio di sensazioni tipo quasi esulto perché hai fatto bene se lo merita che ci sta rovinando la vita eccetera e l'altra però cacchio ora siamo comunque rovinati cioè j lì con quell'urlo con quella cazziata al fratello ha trasmesso tutto ha trasmesso tutto quello che si è portato dentro e ha somatizzato per due anni jimmy bellissimo quando gli dice ho fatto quello che dovevi fare tu in modo particolare tu che sei stato tirato dentro e plagiato minacciato dall'inizio quindi è stato j a dare il via alla bloodline secondo me l'epilogo perfetto è che poi sia proprio j a fare qualcosa di fisico nei confronti di roman e che sia lui a posare l'ultima pietra proprio quella tombale sulla sulla storia della bloodline perché come è iniziato il cerchio deve poi chiudersi stessa maniera quello che mi aspetto è non può fare una celebrazione non può fare un'auto celebrazione questo è sicuro feste festini e festoni coriandoli pupazzi abbracciosi di bailey secondo me no è impossibile dato lo lo stato d'animo l'esecuzione pubblica non la escluderei che però lì anziché comportare un finale con i due gemelli a terra comporta un finale di nuovo con roman per terra e da lì dalla celebrazione distrutta rovinata partirà secondo me la faida più bella che caratterizzerà questo anno della wwe che culminerà magari con j proprio che farà quello che ho detto prima a me sta cosa sto main event mi ha mi ha emozionato troppo però devo dirlo grossa parte delle storie che riguardano roman è la parte l'ultima parte quella più o meno media è stata un po claudicante da quando è arrivato solo si è sistemata tutti gli eventi che riguardano roman che hanno tutto questo cinema questa drammaticità mi emozionano troppo per come vedo io il wrestling cioè mi piace vedere le belle mosse certo che sì però se mi raccontano queste storie ragazzi io impazzisco se salto sulla sedia mi emoziono io non vi nascondo che quando ho visto Jimmy dare il secondo calcio che fa volare via roman gridare in quel modo chinandosi verso il basso e steccare anche con la voce e un po mi ha commosso cioè mi è salita quella quella cosa qua e mi sono bagnati gli occhi cioè perché ho visto una interpretazione che mi ha preso e io lì mi sono dimenticato che era che era una messa in scena che era wrestling con quell'urlo di Jimmy io stavo quasi piangendo e quindi qualunque cosa facciano questi ragazzi mi prende mi prende tantissimo si sono sì è stato è stato cinema c'è di più non si può non si c'è in cos'altro devi dire c'è questo è stato incredibile in live reaction mi ricordo eravamo nel momento del main event eravamo mi sembra più di 250 300 persone cioè era è stato un momento che la chat è impazzita cioè siamo impazziti tutti e ora vediamo cosa combineranno a smackdown te doc invece cosa cosa pensi sia del match sia del match che di quello che farà non mi è piaciuto per niente noioso cioè molto noioso proprio non mi è piaciuto per niente l'arrivo degli usos ok ma in realtà non è cambiato niente perché cambiava qualcosa se Roman Reigns viene schienato così il pin se l'è preso solo Roman Reigns venerdì dirà che lui non ha perso darà la colpa agli usos darà la colpa ai ai cosi a solo magari scaricherà questi qua magari si prende altri alleati e la cosa va avanti se aveva se avesse voluto Triple H fare qualcosa di coraggioso il pin se lo prendeva Roman Roman Reigns è campionato da mille giorni si prende un pin non si cede niente non viene per niente non è che diventa improvvisamente scarso però aveva perso e aveva qualcosa da dire e non aveva scuse perché ha perso lui così adesso tirerà fuori la scusa che non ha perso lui e andranno avanti a dirci questa cosa perché con la bloodline Triple H vuole andare avanti vuole andare avanti vuole andare avanti finché non arriva The Rock perché loro vogliono fare sto match con The Rock e The Rock che con Triple H non va d'accordo glielo sta facendo penare questo match perché The Rock non è che non può prendere non ha del tutto voglia di prendersi che è di far sto match perché dovrebbe fare un favore a Triple H detto fuori dai denti glielo sta facendo penare e sta storia in realtà non va avanti perché anche questa cosa degli Usos verrà risolta con gli Usos che vengono allontanati fuori dalla bloodline nuovi alleati e si va avanti io non ho speranze che si veda niente di particolare a me questa cosa non è mai realmente piaciuta storia che doveva finire già da un pezzo cioè brodo allungato al massimo questa roba c'è un momento interessante su dieci puntate vado avanti non puoi dire non puoi dire allungare il brodo senza se avevi un film da qui presente ah no è evitato non puoi dirlo cioè ripeto io non ho un buon giudizio poi cioè ripeto lo shield in generale mi aveva allontanato dalla WWE e Roman Reigns non mi crea cioè non riesce a creare interesse quello che fa Roman Reigns per cui cioè lo guardo prendo atto che a molti piace a me non piace cioè ennesimo prova di Roman Reigns che mi fa dire no no grazie ci sono due cose che che hai detto sulla quale non mi trovi d'accordo per niente una è il fatto del pin cioè come ha scritto giustamente anche lì Juventino cioè pin o non pin la blada non è finita cioè a meno di clamorose cose il pin cioè che abbia preso meno il pin cioè la blada è distrutta in questo momento qui e poi erano sostituiti da altri probabilmente ma da chi cioè se tu vuoi tirare avanti la blada troveranno qualcun altro ci metti Tamina e un'altra che fanno per i maschili ma di Samoani ce ne sono tantissimi se voglio li trovano cioè io non vedo grossi sbocchi cioè non vedo è un'altra cosa che non mi trovi d'accordo sulla noiosità di Roman però vabbè questi sono gusti sono gusti non posso non posso farti farti cambiare idea e solo si corre invece dove con chi si allea come ci chiede il buon Brock vai partita a Doc dai beh questo è un po' un'incognita però magari poi si allena bisogna vedere come probabilmente all'inizio starà con Roman ma poi ripeto io solo si corre anche qua io non ce lo vedo come main eventer cioè è un è un bodyguard cioè non finora non ha fatto niente tutta questa fanfara su solo si può io non ce lo vedo per cui alla fine starà con Roman e poi boh cioè non ci vedo non ce lo vedo lui come quello che detronizza solo si cioè Roman Reigns non esiste cioè quindi non boh all'inizio per me starà con Roman anche perché dovranno fare un incontro a squadra e intanto il titolo più importante non viene difeso quindi andiamo avanti così Ema? E allora la fanfara su solo si coa non la capisco nemmeno io soprattutto per chi lo ipotizza come detronizzatore no ma per niente non credo abbia lo status le skill giuste perché non ha mai parlato al microfono tranne in piccole occasioni quando perdeva il controllo magari sulle imposizioni sulle direttive di Eiman no proprio che sia lui no di sicuro poi si schiera con i fratelli perché è una cosa che si è dimenticata tutti quanti ma complice anche forse volutamente il commento ufficiale quello americano è che si parla dei fratelli riferendosi ai due gemelli che si somigliano e sono vestiti sempre uguali ma in realtà i fratelli sono tre solo non è gemello di quei due ma è loro fratello quindi secondo me si unirà ai due e parteciperà alla distruzione di Roman ma sicuro e secondo me nemmeno prenderà altri Roman dirà che comunque è forte così che lui c'è una cosa giusta che potrebbe dovrebbe dire secondo me per esorcizzare la figuraccia che ha fatto perdendo e vi ricordate quando sono tornato che da solo ho spaccato il sedere al FIND che era un mostro indistruttibile e l'ho distrutto ho squasciato smash milioni di persone prima di creare la bloodline e di avere l'aiuto dei fratelli vi ricordate che io da solo sono in grado di distruggervi tutti secondo me potrebbe dire questo e quindi giustificare il proseguimento della storia solo con solo scusate il gioco di parole non ci immagino altri componenti anche perché gli altri componenti dovrebbero essere legati dal sangue e al di là delle battute che facciamo su Tamina chi prendi di Samoano nessuno ma anche se trovi un nuovo Samoano così che sbuca dal nulla non hai tempo di farlo sentire importante o parte della squadra è impossibile anche se si inventano un nuovo cugino un nipote non ti prende più perché ti hanno raccontato troppo dramma attorno a queste figure e queste figure qua se le perdi come dicevamo prima la bloodline è già finita bisogna vedere come perché poi si scontreranno chi contro chi se semi ci entrerà di nuovo o ormai è proiettato altrove la bloodline è finita ragazzi è finita un po' mi dispiace pure ma è giusto basta il problema grave e io ne sono certo che grossa parte dei fan di chi segue il wrestling sentirà un vuoto incolmabile e di sicuro il merito va dato a questi interpreti e alla scrittura centralizzata che hanno fatto su di loro ma la colpa va data anche al mollare la presa su tutti gli altri talenti su Cody ci hanno provato abbiamo visto che schifezza stanno facendo cioè mi fa strano che in un comparto creativo comunque credo di un certo livello perché è un'azienda quotata in borsa cioè può avvalersi di scrittori di booker di un certo tipo mi fa strano che per dedicare importanza ad una storia tutto sommato bella come quella della bloodline debbano per forza perdere energia sugli altri divisione femminile addio cioè proprio se ne fregano più ed è brutto e altri campioni Rollins ragazzi non è merito della scrittura ne sono certo se Rollins è over è lui vi ricordate in piena pandemia nel Thunderdome che entrava con la musica celestiale solenne che era il messia ma che diceva Rollins che era delirante che aveva provato a soggiogare pure Austin Theory dopo dei dei cosi IOP Buddy Murphy c'era completamente delirante eppure Rollins ha questo merito si piglia il pubblico se lo tiene pure se gli mettono a fare l'amleto Shakespeare o gli fanno fare Aldo Giovanni e Giacomo il pubblico lo promuove è così quindi se Rollins ce l'ha fatta non è per la scrittura perché la scrittura di WWE nell'ultimo anno è su queste persone che vedete sullo schermo su nessun altro con codice hanno provicchiato e fa schifo quindi il vuoto che sentiremo è la risposta di questo problema più assolutamente la bravura di questi interpreti samoani tra l'altro Buddy Murphy in Storyline ci ha guadagnato la figlia di Ray quindi dai ah vero non le è andata malissimo no comunque come state scrivendo cosa farà Jay cosa farà Jimmy solo si coca è il bello del wrestling è il bello della disciplina quindi bisogna vedere fate caso scusatemi fate caso a questa cosa voi stessi che state facendo queste domande queste immaginazioni in chat non le abbiamo fatte per nessun altro non le avete fatte per nessun altro su Cody si è parlato tanto avete scritto tantissimi messaggi li abbiamo profilati ma erano guarda caso messaggi di lamentela di critica di diniego di sfottò comunque di negatività che chiaramente non è nemmeno costruttiva no e non è una critica perché io sono il primo a sbiellare a sclerare quando si parla di Cody non mi tiro indietro qui invece la fantasia vi si sta sviluppando come a tutti noi quindi c'è o non c'è una differenza di importanza fra le storie perché qua ti fai mille pippe e ti immagini se poi è Jay se poi è Solo e via dicendo su Cody è solo vomitare un fastidio oppure chi lo difende però non c'è la costruzione un'apertura buttiamo sul tavolo cosa si può fare nessuno lo ha scritto oggi in chat c'era chi oggi pochi lo difendeva e ragazzi guardate che è un face e chi diceva ma che cacchio di face è era questo boccio o promuovo ma non c'è argomentazione qua c'è argomentazione che c'è attra che c'è ma che c'è le